Oggi qui all'Agrario Cecchi, la visita dell'assessore regionale Baldelli, questo è esattamente il punto dove sorgerà il nuovo convitto. Un tour nella storica Villa Caprile, dove assiede l'Istituto Agrario Cecchi, che presto avrà un nuovo convitto per gli studenti. Questa mattina l'assessore regionale Francesco Baldelli ha fatto visita alla scuola e ha incontrato la preside Donatella Giuliani per discutere del nuovo intervento da oltre 3,7 milioni di euro. Una priorità già indicata dalla dirigenza scolastica e dalla provincia che ha messo mano al progetto di riqualificazione della scuola e che la regione ha accolto facendolo rientrare al primo posto all'interno dei 21 milioni complessivi assegnati per gli interventi su 10 scuole delle Marche nell'ambito del piano 2020 relativamente al programma triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020. Il progetto della provincia prevede oltre 48 posti letto spalmati su una futura struttura di 2.000 metri quadrati con 16 camere su due piani, servizi igienici e spazi per le attività collettive. Oltre a questo anche una nuova palestra ed altre aule. Il progetto è stato articolato in tre stralci e si partirà appunto con la costruzione del convitto. Un convitto, perché è importante il convitto in questa scuola? Perché questo è un istituto scolastico che ha aumentato fortemente le adesioni degli studenti non solo della provincia di Pesorurbino ma anche delle regioni limitrofe. Oltre 200 studenti che arrivano dalla vicina Romagna, studenti che arrivano dall'entroterra, che hanno bisogno di servizi per poter creare il proprio futuro, ma per poter dare alla scuola strumenti per diventare ancora più attrattiva. I tempi verranno dettati da un decreto del Ministero per la realizzazione dell'opera, per l'erogazione dei fondi, ma noi vogliamo guardare avanti. Abbiamo già chiesto al Ministero e al Governo fondi per la Regione Marche pari a 200 milioni di euro, magari da stringere al Recovery Fund, per mettere in piedi subito altri 100 cantieri in questa nostra regione. Dobbiamo investire nel futuro dei nostri ragazzi, quindi nella sicurezza e nella qualità degli edifici che noi mettiamo a disposizione dei nostri dirigenti scolastici, degli operatori, degli insegnanti nelle nostre scuole, ma a garantire alle famiglie che i nostri edifici hanno un elevato standard di sicurezza. Non vi sarà sfuggito che proprio in queste ore verrà pubblicato un decreto sulla ventilazione meccanica controllata nelle aule. Il progetto iniziale era di spostare il convitto e ricavarci delle aule, quindi evitare che la scuola vada incontro a un dispendio di risorse e di energie, con l'asilo benvenuti, le stesse aule ricavarle dove era l'ex convitto. E sarebbe veramente un'opportunità grande perché avere tutti gli studenti all'interno di questo sito crea migliori condizioni per una didattica di eccellenza e un'efficacia dal punto di vista dei servizi scolastici.